Zonta Club di Genova Lo Zonta Club Genova è membro di Zonta International, una organizzazione internazionale nata nel 1919 negli Stati Uniti e raccoglie donne in tutto il mondo, in 67 paesi, circa 30.000 socie, che si impegnano per costruire un mondo migliore per le donne e le bambine, come dice il nostro motto 2022-2024. Le attività del nostro club fin dall'inizio sono dirette ad affermare i diritti delle donne e a realizzare quella che è la vision di Zonta International, cioè un mondo nel quale le donne possano realizzare compiutamente il proprio potenziale, nel quale possano accedere a tutte le posizioni decisionali in modo egualitario rispetto agli uomini, nel quale i diritti delle donne siano considerati diritti fondamentali e nessuna donna viva nel timore della violenza. Sì, è un evento diciamo di carattere anche un po' ludico perché abbiamo pensato ad una grande donna della quale quest'anno si celebra il centenario della nascita, anzi tra pochissimi giorni è questo anniversario. Abbiamo pensato a Maria Callas e abbiamo avuto l'opportunità di avere la trasmissione del documentario, sottolineo documentario non film, realizzato da Roberto D'Assoni con la fondazione, col sostegno della fondazione Polli Stoppani di Bergamo. Il regista sarà con noi il giorno 22 e per questo all'auditorio Montale dobbiamo ringraziare la collaborazione effettiva del Teatro Carlo Felice, nella persona del suo presidente, ma anche di tutti i tecnici che ci hanno aiutato a realizzare questo evento. Bene, Roberto D'Assoni accompagnato dal maestro amoroso che eseguirà dal vivo alcune delle aree più celebri del grande soprano, saranno sicuramente un'occasione unica per la nostra città. L'evento è aperto, quindi... Non occorre prenotare però? Non occorre prenotare. Alle 17 preciso l'auditorium Eugenio Montale che è nell'atrio del Teatro Carlo Felice, si apriranno le porte e fino all'esaurimento dei posti la città potrà sedersi e ascoltare questo documentario veramente prezioso perché è composto dai testimoni della vita di questa grande donna che ci è sembrata molto vicina a quelli che sono gli obiettivi di Zonta, una donna nata sicuramente in condizioni non favorevolissime, che ha avuto una vita assolutamente straordinaria, ma tutta la riflessione sarà soprattutto sulla sua professione, sull'innovazione forte che ha portato nel mondo della musica. Quindi è una donna volitiva che certamente fa onore anche a Zonta. Il 23 novembre invece presenteremo l'attività del nostro club a Palazzo Tursi. Avremo l'onore di avere la partecipazione del sindaco Marco Bucci. Arianna Pitino, costituzionalista dell'Università di Genova, parlerà di donne e diritti fondamentali, dalle discriminazioni alle pari opportunità. E questo ci permetterà di avere il quadro nel quale inserire le nostre attività a favore dei diritti delle donne. Le nostre attività di advocacy, per esempio, per affermare la dignità della donna, con particolare attenzione a tutte le forme di contrasto alla violenza di genere. Le attività nel campo della salute, con iniziative divulgative su un tema di prevenzione e cura. Attività nel campo dell'istruzione, con l'istituzione di diverse borse di studio e premi che il nostro club ha istituito nel tempo. Nel campo del lavoro, con conferenze e tavole rotonde su lavoro e mondo femminile. Nel campo dell'ambiente. Un'ultima cosa mi preme sottolineare. Che queste nostre attività di advocacy, non solo, ma anche di service, sono state per la maggior parte condotte in collaborazione con altri club zonta, ma soprattutto con associazioni del nostro territorio e con le istituzioni. Cioè, siamo orgogliose in realtà di fare parte di una rete cittadina che difende e afferma i diritti della donna. E io credo che la partecipazione del sindaco Marco Bucci sia la migliore testimonianza proprio di questo legame nostro con la città e della città con noi. Grazie. 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 Grazie.